Un incendio di vaste dimensioni ha distrutto questa notte un capannone agricolo di 600 metri quadrati di superficie e mandato in fumo 700 rotoballe di fieno in località Terzerie di Roccadaspide. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco dei distaccamenti di eboli e giffoni Vallepiana e due autobotti della sede centrale di Salerno, che in cinque ore sono riusciti a spegnere il ruogo. Ancora ignote le cause dell'incendio, sul quale stanno indagando i carabinieri della compagnia di Agropoli, non esclusa la pista Dolosa.